eccoci qua ragazze e adesso ci mangiamo un bellissimo budino a pistacchio e me lo mangio tutto come come vengono ma mando un bacione a tutte le mie fanze e da abbazzarsi le scille di ma quello veramente vuole a testa regola guardiamo con dire più mucca un bacio a tutti buonanotte picciolotte